Siamo a opera, guarda il gazebo della Lega, tante persone che chiaramente chiedono informazioni perché la nostra campagna elettorale che si basa sul credo, come potete vedere, guarda pace fiscale, la flat tax, IVA zero, stop agli sbarchi, la quota 41, l'indipendenza energetica con il nucleare sicuro, via le tasse e soprattutto sui premi straordinari per i nostri lavoratori e ancora tanti altri punti, insomma tante proposte, proposte, idee e zero litigi perché le persone vengono a chiedersi cosa ne pensiamo di una cosa, dell'altra, dell'aumento della bolletta elettrica, del tema delle sanzioni, del tema dello scostamento di bilancio che è una delle proposte che chiaramente la Lega sta facendo per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e alle imprese che sono in enorme difficoltà per l'aumento della bolletta energetica insomma tante proposte, tante idee, tante persone che sostengono la Lega e Matteo Salvini lo farai anche tu il 25 settembre nell'urna, vota Lega, ciao